Dopo che negli scorsi giorni Giulio Torini ha fatto un'intervista in live su Twitch da David Rubino Cosa che abbiamo già visto nello scorso video E' andata pubblicamente contro Roberic Roberic, visto che comunque questo filmato è di qualche giorno fa Ma dategli il tempo di arrivare a tutti Quindi fa vari freebooting, pagine, eccetera Evidentemente lo ha visto solamente oggi Rispondendo per una storia anonima Ma sappiamo tutti quanti a chi è riferita Visto che non ha litigato con altre persone in questo momento Rispondendo che non vorrebbe che la gente pensi che lei e Giulio Torini siano nemiche A lei semplicemente non frega un cazzo di Giulia e neanche sa chi è a momenti Questa è l'interpretazione che abbiamo dato Fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate Se secondo voi è rivolta Giulia oppure no Noi ci vediamo al prossimo video in linea lo studio